e dal 1977 che ci vestiamo esattamente da cece e fagiolo che poi ci hanno messo i nomi cece e fagiolo perché manco noi ce lo siamo messo a un certo punto ce l'hanno messo il nome poi piano piano siamo costretti ad avere le moglie e a fare i figli e sono nati un e due un altro e due pagliacci voi vi chiedete chi è Cosimino è l'ultimo arrivato nel gruppo di cece e fagiolo e voi che siete più giovani sentite a me che sono due grandi e sono fatigato e accampato più di cent'anni bravo Cosimino però ha bevuto per me i berri è vero o non è? anche il fatto che parli inglese lo capisco io sono otto lingue io ah bravo Cosimino sì ma non leggi tutte le altre perché non ci abbiamo messo esatto ciao 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 ciao